E oggi vogliamo festeggiare insieme a voi, cari amici di Padre Pio TV, i 30 anni della rivista di strada Fuori Binario. Lo facciamo grazie al suo direttore Enrico Lucchi in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, ma il mio nome è Cristiano. Cristiano, perdonami. Questa televisione è ancora migliore. Perdonami Cristiano, beh, come dire, ecco, a volte capita, si è il correttore del... Allora, Cristiano, nessun problema. Allora, i primi 30 anni fa nasceva il giornale di strada Fuori Binario. Prima di raccontarci la vostra storia iniziata nel 1994, spieghiamo che cos'è una rivista di strada. Una rivista di strada è una testata giornalistica a tutti gli effetti, che ha però il merito di distribuire i ricavati alle persone che vendono fisicamente il giornale in strada. E nel nostro caso, i senza dimora, i poveri o comunque chi non ce la fa arrivare a fine del mese. Direttore, 30 anni sono una lunga storia. Vogliamo ripercorrerla insieme, ecco, magari col dono della sintesi. Sì, allora, 30 anni fa, nel 1994, degli operatori sociali che lavoravano all'albergo popolare, che è il luogo dei poveri, qui a Firenze, si accorgono che sia a Londra che a Bologna sono nati due giornali appunto di strada che riescono a dare un piccolo reddito, che noi chiamiamo reddito di sussistenza, ai poveri e ai senza dimora. E quindi si ingegnano e creano questa testata Fuori Binario, fondano un'associazione per editarla e iniziano ad andare letteralmente sotto i ponti, a cercare persone, a proporre di vendere, ma anche di scrivere il giornale Fuori Binario. Ecco, tu hai, ti do del tu, diamoci del tu, Cristiano. Certo, certo. Prima vedevamo appunto Fuori Onda, altre riviste di strada, tra cui L'Osservatore di strada, Scap the Tennis di Milano, La Zebra. Ecco, mostriamole così facciamo, vediamo. Allora, intanto vi faccio vedere perché noi abbiamo copiato i bolognesi che hanno fondato Piazza Grande pochi mesi prima di noi e i londinesi del Big Issue, che è il giornale primo in Europa che nel 1993 ha aperto i battenti. Ma Papa Francesco ha voluto, poco più di un anno fa, fondare l'Osservatore di strada, che è un supplemento dell'Osservatore romano e che viene distribuito tutte le domeniche all'Angelus a Piazza San Pietro e viene donato alle persone che possono fare un'offerta ai venditori ed è un altro strumento tra i tanti che ha messo in ponte Papa Francesco per far sì che i poveri possano emanciparsi e possano acquisire un po' di reddito. Ma non solo, perché i giornali di strada hanno il merito di restituire la dignità del lavoro. Cioè non si chiede più solo l'elemosina, ma si propone un servizio, si vende un giornale, un prodotto. Per questo è importante anche che i giornali che poi vengono venduti siano fatti il meglio possibile, che possano affrontare argomenti tra i più vari e che abbiano un risvolto giornalistico di qualità. Perché alla fine chi compra il giornale magari per caso una prima volta si affeziona, lo ricompra e diventa un lettore fedele sia del giornale ma anche un portatore di reddito a chi non ce la fa. Direttore, pochi giorni fa avete celebrato i 30 anni del giornale con un convegno a Firenze dal titolo più che eloquente, mi è piaciuto molto, giornalismo redistributivo. Allora è stato sicuramente un momento di festa, di celebrazione, ma anche di riflessione presupponiamo. Ecco, vuole spiegarci quali sono un po' le risultanze di questo convegno così significativo? Stiamo vedendo anche qualche immagine. Beh sì, è un convegno che noi abbiamo organizzato per festeggiare i nostri primi 30 anni, ma anche per confrontarci con le altre festate italiane. Oltre all'osservatore di strada edito a Roma c'è anche Zebra, che è questo qua, che viene edito a Bressanone, a Bolzano, c'è Scarp de Tennis a Milano, il giornale storico anche questo, Piazza Grande a Bologna. E il centro del dibattito, oltre a una riflessione più generale sulla povertà e come combatterla, è stato soprattutto l'autorappresentazione dei poveri e di senza dimora su queste pagine, perché una delle caratteristiche fondamentali di questi giornali è che vengono fatti fisicamente, vengono scritti da queste persone. Questa scrittura avviene nelle maniere più disparate, ci può essere la persona che manda una poesia o che fa una vignetta così, ma ci siamo attrezzati sia noi a Firenze che anche a Bologna e in altre parti per fare dei corsi veri e propri di giornalismo e per far sì che queste persone possano autorappresentarsi. L'autorappresentazione insieme alla redistribuzione del denaro è una delle chiavi di questi giornali, perché il punto di vista delle persone che vivono la strada è diverso dal mio, dal tuo, da quello di chiunque viva in una comoda casa, al caldo, a riparo dal freddo e dalla pioggia. E questa autorappresentazione è stata proprio al centro del convegno e hanno parlato diversi, tra i venditori e gli scrittori e i giornalisti in erba, chiamiamoli così, di queste tre state. Giornalistiche in erba, immagino leggevo che alcuni di loro diventeranno anche pubblicisti o lo sono già diventati? Beh sì, abbiamo iniziato un percorso l'estate scorsa, formativo, abbiamo fatto degli incontri su che cos'è la notizia, che cos'è un'inchiesta, come si fa un'intervista e via dicendo, e tre persone hanno iniziato un processo che li porterà dopo due anni ad avere il tesserino da pubblicista. Questo per noi, la nostra associazione, è una piccolissima associazione, vuol dire anche uno sforzo economico in più, perché vuol dire pagare questi articoli e vorremmo farlo, vorremmo pagare questi articoli ancora una volta in maniera dignitosa e non magari, come avviene in tante testate italiane, purtroppo anche blasonate, dove i giornalisti vengono sfruttati. Quindi fare informazione dal basso, sostenere chi vende il giornale e retribuire il giusto, appunto, chi scrive gli articoli, i giornalisti. Voi, da sempre autofinanziati, autoprodotti, avete messo su anche una rete di luoghi amici. Di che si tratta, Cristiano? I luoghi amici sono 28 antenne che noi abbiamo nella città. Sono 28 luoghi che possono essere i circoli, possono essere i negozi, possono essere associazioni che tutti i mesi ci comprano 10 o 20 copie al doppio del prezzo di copertina. Questo vuol dire che, oltre a pagare le spese vive del giornale in tipografia, queste realtà ci consentono di avere un po' di denaro in più, di respiro, che vanno a costituire questi soldi in una cassa comune dei distributori, di coloro che vendono in strada e che vengono a questo punto risarciti un po' di più di quello che l'attuale sistema economico, a cui gli obbliga questo sistema, questa marginalità a cui gli obbliga questo nostro sistema. Ed è molto importante anche perché ci consente una maggiore diffusione. Naturalmente noi facciamo un giornale con delle idee, con dei contenuti, che più girano e meglio è. Direttore, per chiudere, una rivista di strada vive di strada, respira la strada. Allora ti chiederei di commentare un numero che il report curato dalla Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora ha certificato. Lo scorso anno 415 sono state le persone che hanno perso la vita a causa di una condizione di grave emarginazione e tra questi emergono tantissimi stranieri. Allora, qual è il cambio di rotta che serve? Questo è un tema fondamentale. Noi abbiamo avuto l'anno scorso una persona che è morta di freddo, un italiano sessantenne, esattamente nel portico che divide l'ospedale di Santa Maria Nuova, che è l'ospedale che dal 1200 accoglie e assiste le persone, dalla fondazione della banca più ricca della città. Ecco, morire sotto quel porticato per Firenze ha significato uno scandalo, perché non si può morire fra la banca più ricca della città e l'ospedale che da quasi mille anni assiste le persone che hanno bisogno, nel 2023. L'altra cosa che abbiamo notato è che fra le vittime della strage dell'Esselunga, il cantiere, avete seguito anche voi la storia di dieci giorni fa, qui a Firenze è crollato un cantiere e ha fatto cinque vittime, all'interno di queste, fra le cinque vittime c'erano persone prese dai caporali la mattina per andare a lavorare nel cantiere, persone sfruttate, persone straniere, persone senza documenti, che rappresentano un po', l'abbiamo detto anche al convegno, quello che potevano essere anche dei nostri distributori, perché alla fine funziona così, chi non ha soldi per arrivare alla fine del mese, prima di andare a delinquere, cerca di fare qualsiasi cosa, cerca anche di adattarsi al caporalato, viene sfruttato nei cantieri di società ricche del nostro paese e questo è uno scandalo enorme. Qui a Firenze c'è stata una grande mobilitazione sul tema del lavoro, sui diritti del lavoro e sarà la prossima nostra apertura del numero di marzo, perché è evidente che è un tema che ci tocca da vicino e per invertire la rotta bisognerebbe che le leggi fossero rispettate, che i primi a rispettare le leggi fossero sia chi le fa, chi le gifra in Parlamento, al governo, che in qualche modo passano molto spesso ciò che la giurisprudenza il nostro paese vorrebbe, cioè rispetto dei diritti umani, rispetto di un salario dignitoso, eccetera, eccetera. Bene, grazie per essere stato con noi, per la tua bella testimonianza Cristiano, ricordiamo che vi possiamo trovare anche sui social, avete un sito di riferimento, appunto basta digitare fuori binario Firenze, vediamo anche alcune pagine dell'ultimo numero se non sbaglio, è quindi fuori binario, potete seguirlo sui social, grazie. Sì, la cosa interessante è che trovate tutti i pdf dei nostri arretrati, quindi se volete curiosare davvero è facilissimo, basta andare su fuoribinario.org. Benissimo, grazie, grazie al direttore di fuori binario che stiamo tutti per essere stato con noi. Grazie direttore, adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme. Grazie.